Gli ambulanti di Ceglie Messapica sono sul pire di guerra. L'amministrazione commissariale del Comune di Ceglie Messapica, infatti, non starebbe permettendo lo svolgimento regolare del mercato del sabato. Sarebbe intenzione, infatti, di spostare gli ambulanti in un'area mercatale diversa di quella di Via Daunia. Gli ambulanti, in manifestazione di protesta, hanno messo in evidenza tutti i timori e le conseguenze che la mossa di spostare il mercato in una zona periferica potrebbe avere sulla loro attività. Per esperienze proprio commerciali, le zone fuori paese così non vanno bene. Ormai abbiamo un'esperienza di Manduria, di Lecce, quindi sono tutti mercati che poi perderebbero tutta la fluibilità proprio del mercato, della gente che ci viene a trovare. Con gli stali che ormai sono da 30 anni che abbiamo là, gente che ormai ci frequenta, che ci conosce, clientela che ormai è abituata proprio a venire là. Nella provincia di Brindisi si sono aperti già 18 mercati su 21. Allo stesso modo di come erano prima. Quindi solo, chiaramente, mantenendo le distanze sociali, avendo protezione civile che controlla queste distanze sociali, con i dispositivi, ognuno con i dispositivi, ma in regola. C'è un abuso proprio sugli ambulanti, perché stanno usando il Covid per farci spostare. E con noi questa cosa non ci va giù in assolutamente. Stiamo cercando in tutti i comuni di collaborare con i comuni, con i sindaci, con gli assessori. Abbiamo chiesto disponibilità in tante maniere. Però c'è proprio una forzatura da parte dei comuni di spostare queste aree mercatali. Io questo non lo vedo giusto. Noi ci viviamo in mezzo alle strade, in tendenza ai mercati. E ci vediamo sbattuti fuori da questi comuni. Nessun motivo. Perché il mercato a Ceglie sta bene dove sta. Portarlo in periferia significa distruggerlo. Ecco perché siamo contrari agli spostamenti.